ultima concorrente della categoria open display fantastico fate quando cazzo di fare il colore è già allora si si è proprio d'accordo da vigilia di Natale aspetta eh Roberti ma quali fai il solito conteggio ammarabaccici co co creci metti su co mo che cade salutetti madonna santa ehi 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 guarda Marta Attini su Kansas qui è il sangue arabe 18 anni grande questo baglio scuro in grandissima forma bene Barcolla il cancello adesso ce la deve disegnare queste barriere bene rimani dentro adesso è la parte più tecnica del percorso perché adesso può allungare la Marta Attini la principessa deve scannare il suo cazzo lo fa come passa vicino le bandierine gli passano i brividi madonna santa bravi il rigoro del uno scatting e l'ampione la virata ottimo prima vorrino ottimo e la settimana qua se tira sulle gambe nooo se ne per nessuno grande la sua prova adesso ultimo scatting che dire da c'è l'attento 1 0 2 85 1 0 85 l'inchino ha tanta grandezza brava Roberto Attini metto 1 0 2 85 maraviglio gli ha mangiati tutti col panino dame saluto a tutti grande e da vado adesso vado 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 muro vado 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 a vado Grazie a tutti.